... Ecco quindi che possiamo presentare l'ultima che ha il programma, cioè sempre il centro stile libero, però questa volta ha solo i maschi. Cinque le batterie previste, nella prima troviamo i corsi a tre, d'Arco Zolic, alla quattro Niccolò Biancalani, alla cinque Omar Zani, alla sei Alessio Tofonetto. 27.45 il passaggio di Martina Rombaldoni, corsia quattro, accreditata nel miglior tempo di iscrizione, 57.86 il riferimento messo da Rebecca De Rosa nella precedente, quindi vediamo queste ultime bracciate, Martina Rombaldoni-Vissauro in corsia quattro. 56.69, quindi di gran lunga miglior tempo, corsia quattro nella finale, questo pomeriggio, quindi sarà lei la favorita, a breve le finaliste, intanto siamo alla prima batteria. Ma...